Ultime notizie dal Tgcom. Prime multe a Napoli e Modena con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada. A Modena un'automobilista fresco di patente ha già perso 8 punti perché guidava parlando al telefonino. Su Tgcom una guida completa sulle novità della patente a punti. Italiani alle prese con il caldo anche nei prossimi giorni. Le temperature sono destinate a salire e c'è il rischio di siccità. Scampato invece il pericolo di un blackout energetico. Cristina Aguilera soffia il posto a Jennifer Lopez, stavolta il palcoscenico non c'entra. Le star erano in lizza per uno dei personaggi di punta del seguito del videogioco più venduto di tutti i tempi, The Sims Superstar. La Formula 1 direttamente sui telefonini, gli appassionati di moto mondiale possono scaricare sul cellulare il gioco Grand Prix. Tutte le informazioni alla pagina 546 di Media Video. Per tutte le altre notizie venite a trovarci su www.tgcom.it. Vi lasciamo ora alla seconda parte del film. Estate con Basta Vieni. I formati speciali della tradizione italiana vi offre questo programma. Ancora bel tempo e caldo al centro-sud e isole, ma il tempo invece al nord. Al mattino rovescio temporale al nord-ovest e dal pomeriggio anche al nord-est. Temporali localmente anche forti, massime fino a 37-38 gradi su Calabria e Sicilia, in calo al nord. Forte di Beccio sull'Alto Tirreno. Dati servizio meteoronautica e lavorazione grafica Epson. Tirami su la cremeria. Il gelato mai gelato. Sensazionale. Incredibile. Straordinario. Esagerato. Strabiliante. Esplosivo. Scintillante. Fenomenale. Sorprendente. Drive-in è ritornato. E questa volta, in trappola, è finito Rupert Everett. Drive-in. Un programma di Antonio Ricci. Mercoledì alle 21 su Canale 5. Il divertimento è assicurato. In acqua minerale vera. Questo è l'Easy Peel, la facile apertura delle nuove insalatissime Riomare. Insalatissime Riomare. Con vaschetta e Easy Peel. Tanto tonno e verdurine da gustare dove vuoi. Insalatissime Riomare. Tira l'Easy Peel e sbucciale insalatissime Riomare. Frollini con cacao e croccanti cereali da tuffare nel latte e ripescare con il cucchiaio. Per una colazione ricca di gusto e carica di allegria, Nuovi frolli spadesi. In due gusti. La tua carica di allegria. Una porta sull'ignoto. Un continente perduto. Una fuga impossibile. Fuga da Atlantide al cinema. No, a Gardaland. Immagina di vivere in un mondo Carlsberg. Ciao Laura, siamo tecnici del suono e lavoriamo nel cinema. Grazie per apprezzare le nostre capacità su un Sony Vega Theater. La sua qualità valorizza davvero il nostro lavoro. Grazie a tutti. 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 Gli uomini sono tutti uguali I rum no Ron Varadero Nessuno come lui Un brivido di paura solleva il 70% dei peli Un brivido caldo l'83% Il nuovo brown silk e peel solleva il 100% dei peli Così è più facile rimuoverli alla radice Rendendo le tue gambe lisce al 100% per settimane Hai invitato la fidanzata? Sì Eccola Qui ci vuole qualcosa di speciale? Tanto cremoso fresco Philadelphia con brosarola Vedrai Sei proprio una fata Philadelphia qualcosa di magico nel tuo frigo Cabriolet Berlina Pick up Berlina Cabriolet Berlina Nuova Citroen C3 Pluriel La prima berlina più volte unica Venite a scoprire l'auto più sicura della sua categoria Anche venerdì 4 e sabato 5 Nuovi frolli spavesi Frollini da tuffare nel latte e ripescare con il cucchiaio Nuovi frolli spavesi La tua carica di allegria 4 ruote di luglio ti offre la prima guida atlante delle strade più belle d'Italia 100 itinerari sui percorsi più suggestivi Dalle Dolomiti alla Sicilia A soli 5,80 euro in più con 4 ruote E con 4 ruote di luglio le prime impressioni di guida della nuova Ypsilon Scommettiamo un Adre che ti mangio il centro della pizza senza tagliarla Porti Grazie Amici per la Drea Gola uno dei sette peccati di Magnum Solo fino ad agosto Solo da Algida Gola uno dei sette peccati di grigio